Un Campofranco che riesce nell'imbrisa a disegnare tre gol qui a San Cataldo, è mancato veramente poco per riacciuffare pure la qualificazione? Sì, sono contentissimo, mi è mancato poco, diciamo che anche oggi gli episodi, io sono uno che non cerco alibi, però anche oggi gli episodi, quello di oggi secondo me è eclatante perché l'arbitro poi si è scusato, si è reso conto che il mio giocatore aveva preso una pallonata in faccia invece il calcio del rigore, che in parte ci poteva tagliare le gambe, però così non è stato, abbiamo dato dimostrazione di essere una grande squadra che io non mi sbagliavo quando dico che effettivamente noi con questa squadra possiamo giocarcela con tutti, quindi episodi a parte sono contento e orgoglioso di allenare questo gruppo. Una vittoria che ci voleva comunque anche in vista della partita con l'Alcamo? Sì, sicuramente perché ci fa capire che quello di domenica è stato un episodio, la prestazione diciamo in parte negativa, anche se anche lì è stato anche qualche episodio sfavorevole, abbiamo preso due call in pallonattiva, quindi sono fiducioso ma lo ero pure prima, quindi insomma lavorando tutta la settimana io so con che c'è a fare, quindi ero tranquillo che i miei ragazzi oggi non fallivano questa partita. A proposito della partita con l'Alcamo, dove giocherai il Campofranco? Il Campofranco, quanto ne so io, ma è quasi certo, possiamo dire anche al 100%, giochiamo sabato a Cammarata, quindi in un campo in erba, quindi abbiamo dimostrato senza runatoia dal nostro che noi in un campo che ci permette di esprimere il nostro gioco, veramente siamo una bella squadra. Un Campofranco che ha assolutamente meritato la vittura in questa partita e che ha fatto venire anche un po' di paura alla Sangataldese. Sì, un Campofranco che ha meritato perché è venuta concentrata e determinata a riscattare la sconvitta all'antata, a differenza purtroppo della Sangataldese che ha considerato il risultato all'antata un facile passaporto per l'accesso alla fase successiva, ma nel calcio la deconcentrazione o la sottovalutazione degli avversari purtroppo si paga pegno, come abbiamo fatto noi. Oltre alla sconfitta, paura, insomma, nella normalità, ma certo la preoccupazione per un risultato clamoroso l'abbiamo avuta. Nel doppio incontro quanto è pesato il fattore rigore, visto che la Sangataldese ne ha ricevuti uno all'antata e uno qui oggi in casa? Io rispondo molto semplicemente come rispondeva un grande allenatore, Boscova. Quanto rigore c'è, arbitro e fischia. Inutile che ci appelliamo agli episodi perché poi si poteva stare un rigore alla fine su di somma, come un altro su qualche giocatore del Campofranco. Accettiamo gli errori o le decisioni arbitrali, serenamente senza creare le considerazioni sulla gara e sugli episodi, nella loro complessità. Nonostante il rigore che il Campofranco dice di aver avuto inciustamente, ha vinto e quindi si dimostra che nel calcio chi ha più forza alla fine riesce a vincere. A proposito di somma, qualcuno della tifoseria lo ha contestato, come mai? Sono esigenti i nostri tifosi. Di somma viene da un periodo in attività, nel senso che si è allenato a ritmo ridotto, oggi si è sacrificato molto. Giustamente da un certo punto di vista la tifoseria pretende il massimo, come ha dato Giovanni, ma il massimo sotto le giocate tecniche che spesso Giovanni fa di somma. Ma altrettanto la tifoseria deve stare paziente nell'aspettare la migliore forma di di somma e apprezzare il sacrificio, l'applicazione che ha avuto nel cercare di dare il massimo, nonostante le condizioni fisiche non eccellenti. Una stancataldese sotto tono rischia la clamorosa eliminazione addirittura alla Coppa Italia? Rischia la clamorosa eliminazione, non direi. Il 3-1 è arrivato al 49-50, quindi credo che fra tutti i turni di Coppa Italia questo era il più incerto. Era una partita difficile perché si incontravano due buone squadre. Quello che è successo a Campofranco all'andata è successo un po' a noi stasera, però bisogna andare avanti, bisogna prendere per buono la qualificazione e bisogna crescere da questa sconfitta. A proposito dell'andata, oggi un passo indietro rispetto alla partita di domenica scorsa? In questa fase può anche essere normale. Sicuramente l'approccio mentale non è stato come domenica scorsa. Noi se non lottiamo su tutti i palloni potremmo avere difficoltà con tutti. E così è stato. Mariano Cordaro, di solito si dice che il giocatore più beccato dalla tifoseria avversaria è il giocatore che dà più fastidio. No, dalla tifoseria avversaria direi no, perché comunque la stramaggioranza della gente ha visto la partita, ha applaudito, ha detto delle cose giuste, non tutti. È ovvio che in tutte le tifoserie c'è gente più o meno sportiva. Io non ho mai capito quest'assi nei miei confronti, perché comunque sono sempre venuto qua da avversario e non mi pare che abbia fatto mai grosse cose o mancato di rispetto a qualcuno. Ho giocato a calcio per la mia squadra, che è quello che farò in tutte le squadre dove andrò. Mi dispiace, ripeto, perché io apprezzo tantissimo la tifoseria della San Cataldese, che ovunque vanno, comunque mi piace proprio il modo che hanno di fare. Peccato per qualche personaggio che comunque tende a rovinare un po' questa cornice che fa piacere vedere. Però per il resto voglio dire niente di anomale, insomma. Dopo questa partita aumenta il rammarico sul fatto che Mariano Cordaro all'andata non ha potuto giocare? No, ma io penso che all'andata non sarebbe cambiato nulla se ci fossi stato io o meno, perché è stato proprio l'approccio mentale che non ci ha aiutati. Molti ragazzi comunque nel primo anno che facevano la categoria, giocare in casa con il pubblico amico, insomma, non era una cosa semplice. Quindi l'impatto è stato quello che non è. Io ho sempre detto che il singolo non fa mai la differenza. Però sono contento per oggi perché abbiamo dimostrato ovviamente di non essere quella squadra vista a Campofranco. Avevamo lasciato tutti un po' delusi, ma noi siamo consapevoli del lavoro fatto con l'allenatore, col prof e con tutta la società. Quindi speriamo, insomma, di riprenderci presto. Quindi un Campofranco che non merita di uscire dalla competizione iridata? Un Campofranco che merita di uscire dalla Coppa per il semplice fatto che non ha avuto inizialmente, pur avendo gente d'esperienza, l'intelligenza di magari fare finire la partita con qualche gol in meno. Perché il discorso di volere vincere ti porta poi a prendere tre gol con la San Cataldese e quindi diventa molto difficile raddrizzare il risultato. Però sono cose che comunque fanno crescere. Non sempre si può vincere, insomma. Speriamo bene per il campionato, insomma. Con il direttore sportivo parlavamo dei rigori. Quanto sono pesati nel doppio incontro i rigori dati alla San Cataldese? Io più che i rigori, veramente voglio fare un appello alla Lega. Non me ne vogliono gli arbitri, i segnalini. Saranno anche ragazzi giovani, per carità. Però non si possono fare certi errori. L'eccellenza è diventata una categoria importante. Ci sono giocatori importanti. Quest'anno, questo girone dell'eccellenza, io ho letto nomi nelle squadre di San Cataldese, Alcamo, Campofranco, Agragas. C'è un campionato che è tornato ai livelli di 5-6 anni fa. Quindi, quantomeno un occhio di riguardo. Per noi è lavoro. Quello che non hanno capito è che l'eccellenza è dilettantismo per quanto riguarda la burocrazia, ma per noi è lavoro allo stato puro. Ci alleniamo tanto quanto lo fanno in Serie A. Per cui un po' più di attenzione non sarebbe male, insomma.